Allora vedremo che cosa accadrà appunto nelle prossime ore, ore decisive con noi, lo salutiamo, lo ringraziamo Achille Variati, sottoscreditario al Ministero dell'Interno, benvenuto e vedete nell'altro riquadro il professor Matteo Bassetti, San Martino di Genova, benvenuto anche a lei. Professore, partiamo dal Ministero dell'Interno, ci dà qualche anticipazione, può fornircela? Innanzitutto mi sento di correggere un po' un'affermazione che ho appena sentito, il governo si spacca, francamente il governo discute, non sono decisioni semplici queste perché da un lato se tu guardassi solo all'aspetto epidemiologico bisognerebbe chiudere tutto, bisognerebbe fare un lockdown diciamo da qui fino alla Befana, tutti i negozi chiusi, tutti i ristoranti chiusi e così via e fermi tutti nelle proprie abitazioni. Questo sarebbe da un punto di vista di un infettivologo, voglio dire che questa sarebbe la soluzione migliore. È ovvio però che il governo ha necessità di salvaguardare il diritto centrale alla salute, anche di stare molto attento all'andamento dell'economia. Noi stiamo chiedendo soprattutto ai commercianti, abbiamo visto anche servizi che avete dato voi nelle varie edizioni, imbuffaliti perché da tempo quella categoria è in grande sofferenza, sperava durante il periodo natalizio di potersi rimettere un po' a po'. Cosa succederà? Ahimè, l'andamento della curva, la necessità di appiattirla, la necessità di non avere emergenze gravi nel Paese a gennaio quando dovremmo partire con la grande avventura positiva delle vaccinazioni sta costringendo il governo a prendere ulteriori misure di divieto, anche perché abbiamo visto che le raccomandazioni, le ramanzine valgono quel che valgono. Se tu a un cittadino dici questo lo puoi fare, puoi andare in centro sabato per fare le compere natalizie? Sì, e allora ci va molta gente, ci va e basta qualcuno, si crea il problema e dice mamma mia tutta sta gente, torno in un'ora diversa, vado in una strada diversa, ma con le ramanzine non si va da nessuna parte, ergo siamo in attesa di avere come governo i suggerimenti degli scienziati quindi del comitato tecnico scientifico che ci darà delle indicazioni, alla fine è la politica che deciderà, deciderà quando, deciderà domani, in una delle ipotesi che avete illustrato ne parlerà alle regioni, perché noi siamo un sistema piuttosto complesso, mica è semplice la sanità, c'è un indirizzo nazionale, ma poi ci sono le gestioni regionali, ne discuteremo con i presidenti delle regioni domani o al massimo, giovedì mattina, e poi si prende la decisione. Si prende la decisione, quindi ancora non sappiamo. Senta, però è vero che al netto degli assembramenti di domenica scorsa che hanno preoccupato il governo, hanno preoccupato molti medici, non tutti, però è vero che le indicazioni che arrivano sono spesso discordanti, da un lato andate a fare shopping, anzi vi diamo il cashback con la app, iscrivetevi, dopodiché allora si va a fare shopping dove? Nei negozi, il cashback funziona solo nei negozi e non con l'online che è stato favorito dalla pandemia ovviamente, e quindi uno dice, vabbè, c'ho lo sconto, vado, dopodiché però, no, però siete usciti in troppi, non sapete autoregolarvi. Ammette o no che c'è una discrepanza di indicazioni, comportamenti, attitudini, abitudini? Può essere, però attenzione, noi ci siamo anche basati sul senso, sul buon senso, ecco, c'è una volta si diceva il buon senso, il cashback perché è stato fatto così? È stato fatto per dare una mano ai negozi, l'e-commerce, cioè l'online ha fatto affari d'oro durante questo periodo, noi dobbiamo, guardi, noi abbiamo un dato pauroso, nei primi dieci mesi del 2019 la cassa integrazione era attorno agli 75 milioni di ore. Nello stesso periodo, i dieci mesi del 2020 ci portano a un miliardo e 600 milioni di ore di cassa integrazione. E la gente è, come dire, ferma, non ci sono i licenziamenti perché non si possono fare, ma noi abbiamo una grande paura di avere in mano una bolla che possa far sì che una pandemia sanitaria si trasformi in una pandemia economica. Per cui il governo ha agito con le due mani. È ovvio che alla fine qual è la mano decisiva? È la mano nei confronti della sanità pubblica ed è quella che vincerà anche, purtroppo, per ulteriori divieti che avremmo voluto non fare. Quindi ci saranno ulteriori divieti? Questo ce lo dice il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Professor Bassetti. Ho letto alcune sue dichiarazioni nelle quali non si diceva troppo preoccupato per i cosiddetti assembramenti di domenica scorsa. Ha detto tutti in fondo avevano le mascherine. È sbagliato adottare il modello tedesco in Italia? La chiusura totale? Quello che credo che ci debba essere è una linea. Allora, se si decide di seguire una linea, la linea deve essere quella. La linea deve essere quella dei numeri, la linea dei contagi, la linea dei ricoveri ospedalieri. Noi in Italia abbiamo assunto un modello che è quello dei colori delle regioni, basandole sull'occupazione dei posti letto e su quella che era la curva dei contagi. Credo che si debba continuare a lavorare sui numeri. È chiaro che se i numeri ci dovessero dire nella prossima settimana, perché sappiamo bene che questo è un contagio che si muove circa due settimane, che stanno risalendo, non stanno avendo un dato di decrescita, anche per alcuni comportamenti che si ritiene, a mio parere no, ma per qualcuno sono sbagliati, è evidente che si dovrà intervenire per evitare di avere non la terza ondata, ma la ripresa della seconda, perché non dimentichiamoci che tutti parlano, io sono stato uno dei primi della terza ondata, ma noi siamo ancora in piena seconda ondata, perché abbiamo comunque ancora un 10-11% di positivi. Eravamo al 20, ma abbiamo ancora 12-13 mila casi e contagi ogni giorno. Quindi io credo che ci vuole una linea. La linea è guardiamo i numeri e poi interveniamo, oppure facciamo quello che fanno altri paesi. Io francamente devo dire la verità, che se la Germania decide di chiudere, allora io vi posso dire che la Francia per esempio non lo fa, l'Austria non lo fa. Quindi non capisco neanche bene la linea che si voglia seguire. Se è quella di fare quello che fanno gli altri, ma allora però bisogna fare come fanno la Germania anche su altre cose. 18 mila posti letto in terapia intensiva, oppure la stessa Germania è quella che a settembre ha aperto il 20% degli stadi. Non ce lo dimentichiamo, con stadi che hanno capienza di 40 mila posti vuol dire che hanno portato 10 mila persone alla partita. Cioè io credo che bisogna avere una linea che è quella del nostro paese, senza guardare cosa fanno gli altri. Oppure decidiamo di muoverci tutti insieme a livello europeo. Non è che una volta possiamo fare in un modo e una volta fare in un altro. Ecco, una volta in un modo e una volta in un altro. Giro la domanda al sottosegretario Variati. No. Il governo ha cercato una via nostra, basata su dati scientifici. Abbiamo pensato di bloccare un lockdown generalizzato. Quello che avrebbe fermato la produzione, perché francamente non potevamo permettercelo. Però abbiamo fatto anche dei colori diversi, basati su dei parametri che sono stati discursi. Le grandi linee dell'andamento epidemiologico, della capacità di un sistema regionale diverso dall'altro di intervenire con, diagnosticando e intervenire sulle cure rapidamente, con chi ha o chi ne ha meno di assistenza sanitaria territoriale e poi chiaramente l'andamento, diciamo, dello stress delle strutture sanitarie, cioè il numero di posti letto reali, liberi, nelle terapie ordinarie, nelle sub-intensive e nelle intensive. Questo ha fatto il governo. E questo ha funzionato. Perché in realtà, laddove abbiamo fatto maggiori restrizioni, fino ad arrivare alle zone rosse, poi abbiamo potuto anche indietreggiare. Abbiamo un fenomeno, ad esempio, il Veneto, che è sempre stato, secondo questi parametri, nella linea gialla. Oggi, proprio perché ha avuto più capacità di movimento delle settimane passate, ha un momento di maggiore intensità. Può essere che il Veneto possa andare in zona arancione. Insomma, non è che stiamo seguendo la Luna e il movimento del Sole. Stiamo seguendo una logica che ci viene, come dire, aiutata, garantita dalla scienza che accompagna il governo in questo difficile periodo. E chi ha soluzioni rapide, quelle che servono a tutto, che hanno la verità in tasca, secondo me sono semplicemente dei ciarlatani. Professor Bassetti, c'è una cifra che fa impressione, è uscita dall'Istat, il numero dei morti, attenzione, morti complessivi, inclusi quelli del Covid, che ha battuto, purtroppo, il numero raggiunto nel 1944 nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. È solo una suggestione? o siamo davvero messi male? Anche perché siamo stati elogiati dal mondo a un certo punto, solo pochi mesi fa, i grandi giornali e grandi televisioni. L'Italia è la più brava di tutti a gestire il Covid dopo essere stata travolta e adesso ci ritroviamo, apparentemente almeno ritravolti dalla seconda ondata, come dice lei. Ma secondo me, guardi, i numeri certo che fanno paura e, come dire, noi dobbiamo piangere tutti i morti che abbiamo ogni giorno. Però non credo che l'unico indicatore per come è stata gestita questa epidemia debbano essere il numero dei decessi, perché, vede, il numero dei decessi è fortemente influenzato intanto dall'età media italiana. Noi siamo uno dei paesi europei, forse quello più vecchio e quindi, purtroppo, paghiamo uno scotto importante di una malattia che colpisce tipicamente in maniera aggressiva le persone più anziane. Quindi io non credo che debba essere l'unico parametro, perché su altre cose, io concordo con il sottosegretario, abbiamo fatto delle cose fatte bene. La divisione in colori delle regioni, secondo me, è stato un provvedimento molto intelligente, cucito ad osso al territorio ed è quello, secondo me, con cui dobbiamo ragionare anche di qui alle prossime settimane e nei prossimi mesi. È chiaro, il numero dei decessi, purtroppo, lo sappiamo, è influenzato anche, forse, da un sistema sanitario che era stato depauperato per anni e che aveva indubbiamente rispetto ad altri paesi, vedassi la Germania stessa, un numero di posti, diciamo, intensivi molto minore. Però il numero dei decessi dovremmo guardarlo alla fine del 2020, guardando quella che è stata l'eccesso di mortalità complessiva sull'anno per tutto il paese rispetto ai cinque anni precedenti. Solo in quel momento potremmo dire veramente quanto ha inciso questa epidemia. Lo sappiamo già, in alcune aree ha sicuramente aumentato in maniera spaventosa, basti pensare all'area di Bergamo, di Brescia. Però non guardiamo soltanto il numero dei morti, che indubbiamente fa male. Però noi abbiamo fatto altre cose, secondo me, fatte bene e io rivendico sul sistema sanitario italiano comunque una buona gestione della epidemia. Non mi piace passare per l'ultimo del mondo, ecco. Non mi piace come medico, come sanitario, ma anche come cittadino. Sottosegretario Variate, ecco. Siamo i primi o gli ultimi del mondo? Siamo nel mezzo e cerchiamo di cavarcela. Diciamo che non siamo certo gli ultimi. Penso che il sistema sanitario, anche la valenza universale che abbiamo in Italia, sia uno dei sistemi migliori e più equi, tra l'altro, nel mondo. Penso che le strutture sanitarie tutte abbiano veramente reagito con compassione, con un senso altissimo del dovere e l'hanno anche pagato in termini, tra l'altro, anche di vite umane, di operatori sanitari, di medici, di infermieri, di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. Concordo assolutamente col professor Bassetti quando dice quella scelta che abbiamo fatto, penso di poter dire, professore, insieme, tra scienza e politica, di dividere la realtà del nostro paese in diverse realtà, perché diversi sono i sistemi sanitari che abbiamo di regione in regione, con criticità diverse, sia stata una scelta intelligente. Adesso abbiamo però queste feste natalizie che forse vanno trattate un po' a parte, perché noi lo sappiamo, abbiamo l'abitudine di stare insieme, fa parte della nostra umanità, dei nostri affetti. Natale è Natale, quindi ci si vede, si mangia insieme, ci si abbraccia, è sempre stato così e spero continuerà in futuro ad essere così. Questo Natale no, maledettamente no. Quindi se dobbiamo mettere qualche preventivo di vieto in più è per non fare errori, per non fare errori. Io penso che anche il professore sia d'accordo con me nel dire che avremmo bisogno di un gennaio barra febbraio in cui le strutture non siano oppresse, non siano sotto stress gravissimo per la cura della malattia. Perché? Perché avranno anche un altro grande compito, che è quello della speranza, che è il vaccino. Operazione straordinaria su cui sarebbe, guardi, lo dico da uomo di governo. Sarebbe criminale che ci fossero dei ritardi o degli errori, perché quella è la via della speranza. Quindi se dobbiamo stringere i denti, stringiamoli. Tanto ormai, insomma, il vaccino ormai sembra essere veramente molto vicino. Ci siamo segnati le sue parole. Criminale se ci fossero dei ritardi o degli errori. L'America ha già approvato, l'FDA, che è l'agenzia del farmaco americano, per chiarire, ha già approvato il secondo vaccino. Quindi si parte con Moderna, oltre al vaccino Pfizer. L'Europa sembra ancora un po' in ritardo. Arriveremo anche su quel largo momento. Saluto e ringrazio davvero il sottosegretario all'interno Variati. Buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie.